Le anticipazioni dello speciale del sabato del 12 gennaio 2019 di Amici 18.Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato, a partire dalle ore 1410, va in onda lo speciale di Amici, durante il quale assisteremo alla consueta sfida a squadre.Lo speciale del sabato è condotto da Maria De Filippi.Amici 18 Le anticipazioni del 12 gennaio 2019 Attenzione spoiler cambi importanti nella classe di Amici che rivoluzioneranno il corso del talent show.Iromperanno tre banchi nuovi da assegnare in conseguenza di tre pesanti eliminazioni.Per la categoria ballo entreranno Vincenzo e Raffael, saranno eliminate le ballerine Arianna e Mimmi.A giudicare le allieve in sfida e coreografi Clé di Cadio, Roman Froz, Natalia Titova e la giornalista e critico di danza Francesca Bernabini.Per quanto concerne la categoria Canto Alvis prenderà il posto di Giacomo Eva, a decidere il destino della sfida e il produttore discografico internazionale Charlie Rapino.Amici 18 Dove vederlo lo speciale del sabato di Amici 18 va in onda su Canale 5.A partire dalle ore 1410.La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty TV e The Play.Amici 18 Second Screen Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici.Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di The Play.Su Facebook La pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.Su Twitter L'account ufficiale del programma è Chiocciola Amici Ufficiale La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag cancelletto Amici 18.Per chi vuole seguire il programma in live blogging Infine, la puntata di oggi sarà disponibile in tempo reale su The Blog, Magazine di Blog, a partire dalle ore 1410.